Nel 1989 nasce la Fondazione Marisa Bellisario, nata per sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzare il merito e il talento, favorire le carriere a femminile, sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e l'economia. La Fondazione Marisa Bellisario è un laboratorio di crescita e scambio di idee ed esperienze che aiuta a leggere e comprendere la realtà e a trovare le soluzioni per cambiare passo e rendere le donne protagoniste del loro tempo. Sono particolarmente onorata perché questa nomina di referente per la campagna della Fondazione Bellisario che l'Ella Golfo ha voluto raggiunge un momento di grande consapevolezza che è anche quello di raccogliere l'importante testimone di Vincenza Cassetta. Vincenza Cassetta che è stata tra le prime mele d'oro e sostenitrici della Fondazione Bellisario, una grande donna che ha affiancato l'Ella Golfo con forza e concretezza anche nelle tante missioni internazionali e di solidarietà per moltissimo tempo e che io ringrazio appunto come un esempio virtuoso per me. Gli strumenti della Fondazione sono il dialogo e il confronto con il mondo politico, sull'imprenditoria, sulle politiche di welfare e sulla violenza di genere. Ma l'azione muove anche delle iniziative concrete e innovative che negli anni tracciano la strada del cammino verso la parità delle donne italiane. Ovviamente la prima cosa che mi preme fare è proprio una chiamata a tutte le donne imprenditrici del territorio della Campania, e sono tante, a partecipare a due premi importanti indetti dalla Fondazione Bellisario. Il primo premio è il premio Work-Life Balance Friendly che è rivolto alle grandi imprese in collaborazione con Confindustria. E l'altro premio è il premio Women Value Company in collaborazione con Intesa San Paolo e rivolto alle piccole e medie imprese, per cui due grandi opportunità, una chiamata alle armi per tutte le donne imprenditrici della Campania.